Sura Quinta O voi che credete, rispettate gli impegni. Vi sono permessi gli animali dei greggi, eccetto quello che vi reciteremo. Non cacciate quando siete in stato di sacralizzazione. Allah comanda quello che vuole. O voi che credete, non profanate i simboli di Allah, né il mese sacro, né l'offerta sacrificale, né le ghirlande, né quelli che si dirigono verso la sacra casa, bramando la grazia e il compiacimento del loro Signore. Dopo che vi sarete desacralizzati, potrete cacciare liberamente. E non vi spinga la trasgressione, l'odio per quelli che vi hanno scacciato dalla sacra moschea. Aiutatevi null'altro in carità e pietà, e non sostenetevi nel peccato e nella trasgressione. Temete Allah, egli è severo nel castigo. Vi sono vietati gli animali morti, il sangue, la carne di porco, e ciò su cui sia stato invocato altro nome che quello di Allah. L'animale soffocato, quello ucciso a bastonate, quello morto per una caduta, incornato, o quello che sia stato sbranato da una belva feroce, a meno che non l'abbiate sgozzato prima della morte, e quello che sia stato immolato su altari idolatrici, e anche vi è stato vietato tirare a sorte con le freccette. Tutto ciò è iniquo. Oggi, miscredenti, non sperano più di allontanarvi dalla vostra religione. Non temeteli dunque, ma temete me. Oggi ho reso perfetta la vostra religione, ho completato per voi la mia grazia, e mi è piaciuto darvi per religione l'Islam. Se qualcuno si trovasse nel bisogno della fame, senza l'intenzione di peccare, ebbene, Allah è perdonatore, misericordioso. Ti chiederanno quello che è loro permesso. D. Vi sono permesse tutte le cose buone, e quello che cacceranno gli animali che avete addestrato per la caccia, nel modo che Allah vi ha insegnato. Mangiate dunque quello che cacciano per voi, e menzionatevi il nome di Allah. Temete Allah. In verità Allah è rapido al conto. Oggi vi sono permesse le cose buone, e vi è lecito anche il cibo di coloro ai quali è stata data la scrittura, e il vostro cibo è lecito a loro. Vi sono inoltre lecite le donne credenti e caste, le donne caste di quelli cui fu data la scrittura prima di voi, versando il dono nuziale, sposandole, non come debosciati libertini. Coloro che sono miscredenti, vanificano le opere loro, e nell'altra vita saranno tra i perdenti. O voi che credete, quando vi levate per la preghiera, lavatevi il volto, le mani e gli avambracci fino ai gomiti, passate le mani bagnate sulla testa, e lavate i piedi fino alle caviglie. Se siete in stato di impurità, purificatevi. Se siete malati, o in viaggio, o uscendo da una latrina, o dopo aver accostato le donne e non trovate acqua, fate l'allustrazione con terra pulita, passandola sul volto e sugli avambracci. Allah non vi vuole imporre nulla di gravoso, ma purificarvi e perfezionare su di voi la sua grazia, affinché siate riconoscenti. Ricordate i benefici che Allah vi ha concessi, e il patto che stringeste con lui quando diceste, abbiamo sentito e obbediamo. Temete Allah. Egli conosce quello che è nei cuori. O voi che credete, siate testimoni sinceri davanti ad Allah, secondo giustizia. Non vi spingo all'iniquità, l'odio per un certo popolo. Siate equi. L'equità è consona alla devozione. Temete Allah. Allah è ben informato su quello che fate. Alla ha promesso a coloro che credono e compiono il bene, il perdono e un'immensa ricompensa. Quelli che sono miscredenti e tacciano di menzogna i segni nostri, sono i compagni della fornace. O voi che credete, ricordate i benefici che Allah vi ha concesso, il giorno che una fazione voleva alzare le mani contro di voi, ed egli arrestò le mani loro. Temete Allah. Confidino in Allah i credenti. Allah accettò il patto dei figli di Israele, e suscitò da loro dodici capi. Allah disse, Sarò con voi, purché eseguiate l'orazione e pagliate la decima, e crediate nei miei messaggeri, li onoriate e facciate un bel prestito ad Allah. Allora cancellerò i vostri peccati, e vi farò entrare nei giardini dove scorrono i ruscelli. Chi di voi, dopo tutto ciò, sarà miscredente, si allontana dalla retta via. Ma essi ruppero l'alleanza, e noi li maledicemmo, e indurimmo i loro cuori. Stravolgono il senso delle parole e dimenticano gran parte di quello che è stato loro rivelato. Non cesserai di scoprire tradimenti da parte loro, eccetto alcuni. Si indulgente con loro, e dimentica. Allah ama i magnanimi. Con coloro che dicono, siamo cristiani, stipulammo un patto, ma dimenticarono una parte di quello che era stato loro ricordato. Suscitammo tra loro odio e nemicizia fino al giorno della risurrezione. Presto Allah li renderà idotti su quello che facevano. O gente della scrittura, Ora è giunto a voi il nostro messaggero, per spiegarvi molte cose della scrittura che voi nascondevate, e per abrogarne molte altre. Una luce e un libro chiaro vi sono giunti da Allah. Con essi, Allah guida sulla via della salvezza quelli che tentano al suo compiacimento. Dalle tenebre li trae alla luce. Per volontà sua li guida sulla retta via. Sono certamente miscredenti quelli che dicono, Allah è il Messia figlio di Maria. D. Chi potrebbe opporsi ad Allah se egli volesse far perire il Messia figlio di Maria, insieme con sua madre e a tutti quelli che sono sulla terra. Ad Allah appartiene la sovranità sui cieli, sulla terra e su tutto quello che vi è fra mezzo. Egli crea quello che vuole. Allah è onnipotente. Giudei e Nazareni dicono, Siamo figli di Allah e i suoi prediletti. D. Perché allora vi castiga per i vostri peccati? Sì, non siete che uomini come altri che lui ha creato. Egli perdona chi vuole e castiga chi vuole. Ad Allah appartiene la sovranità sui cieli e sulla terra e su quello che vi è fra mezzo. A lui farete ritorno. O gente della scrittura, Il nostro messaggero vi è giunto dopo un'interruzione nella successione dei profeti, affinché non diciate, Non ci è giunto nunzio né ammonitore. Ecco che vi è giunto un nunzio e un ammonitore. Allah è onnipotente. E quando Mosè disse al suo popolo, O popol mio, ricordate la grazia di Allah su di voi, quando ha scelto tra voi i profeti, e fece di voi dei re, e vi diede quello che non aveva mai dato a nessun popolo al mondo. O popol mio, entrate nella terra santa che ha l'avia destinata, e non volgete le spalle. Vi ritrovereste perdenti. Dissero, O Mosè, esse è abitata da un popolo di tiranni. Noi non vi entreremo finché essi non siano usciti. Se escono, allora entreremo. Due dei loro, timorati e colmati da Allah di grazia, dissero, Entrate dalla porta. Quando sarete dentro, trionferete. Confidate in Allah se siete credenti. Dissero, O Mosè, noi non entreremo finché saranno colà. Va tu con il Signore tuo, e combattete insieme. Noi resteremo qui in attesa. Disse, Signore, ho potere solo su me stesso e su mio fratello. Separaci da questo popolo di perversi. Disse Allah. Ebbene, questo paese sarà loro vietato per quarant'anni, ed essi arrerranno sulla terra. Non ti affliggere per un popolo di iniqui. Racconta loro, in tutta verità, la storia dei due figli di Adamo, quando offrirono ad Allah un sacrificio, ed ecco che l'offerta di uno fu accettata, e quella dell'altro no. Questi disse, Ti ucciderò certamente. Rispose il fratello, Allah accetta solo da parte di coloro che lo temono. Se alzerai la mano contro di me per uccidermi, io non l'alzerò su di te. Io temo Allah, il Signore dei mondi. Voglio che tu ti addossi il mio peccato e il tuo, e allora sarai tra i compagni del fuoco. Questa è la ricompensa per gli ingiusti. La sua passione lo spinse ad uccidere il fratello. Lo uccise, e divenne uno di coloro che si sono perduti. Poi Allah gli inviò un corvo che si mise a scavare la terra, per mostrargli come nascondere il cadavere di suo fratello. Disse, Guai a me, sono incapace di essere come questo corvo, sì da nascondere la spoglia di mio fratello. E così fu uno di quelli afflitti dai rimorsi. Per questo abbiamo prescritto ai figli di Israele che chiunque uccida un uomo che non abbia ucciso a sua volta o che non abbia sparso la corruzione sulla terra, sarà come se avesse ucciso l'umanità intera. E chi ne abbia salvato uno sarà come se avesse salvato tutta l'umanità. I nostri messaggeri sono venuti a loro con le prove, eppure molti di loro commisero eccessi sulla terra. La ricompensa di coloro che fanno la guerra dall'Allà e al suo messaggero e che seminano la corruzione sulla terra è che siano uccisi o crocifissi, che siano loro tagliate la mano e la gamba da lati opposti o che siano esiliati sulla terra. Ecco l'ignominia che li toccherà in questa vita. Nell'altra vita avranno castigo immenso. Eccetto quelli che si pentono prima di cadere nelle vostre mani. Sappiate, Allà è perdonatore, misericordioso. O voi che credete, temete Allà e cercate il modo di giungere a Lui e lottate per la sua causa affinché possiate prosperare. Quando anche i miscredenti disponessero di tutto quello che c'è sulla terra e altrettanto ancora, non sarebbe loro accettato come riscatto nel giorno della Ressurrezione. Avranno doloroso castigo. Vorranno uscire dal fuoco, ma non ne usciranno. Avranno perpetuo tormento. Tagliate la mano al ladro e alla ladra per punirli di quello che hanno fatto e come sanzione da parte di Allà. Allà è eccelso, saggio. Quanto a chi si pente e si corregge, Allà accetta il suo pentimento. In verità, Allà è perdonatore, misericordioso. Non sai che ad Allà appartiene il regno dei cieli e della terra? Egli castiga chi vuole e perdona chi vuole. Allà è onnipotente. O messaggero, non ti affliggere per quelli che ricadono nella miscredenza dopo che le loro bocche hanno detto Noi crediamo, mentre i loro cuori non credevano affatto. E neppure a causa dei giudei che ascoltano solo per calugnare, che ascoltano per altri che non sono mai venuti da te. Stravolgono il senso delle parole e dicono Se vi è dato questo, accettatelo, altrimenti siate diffidenti. Se Allà vuole che un uomo cada nella tentazione, tu non puoi fare niente contro Allà per proteggerlo. Essi sono coloro i cui cuori non ha voluto purificare, avranno l'ignominia in questa vita e un castigo immenso nell'altra. Ascoltano solo per diffamare avidi di illeciti guadagni. Se vengono da te, si arbitro tra loro o allontanati. E se ti allontanerai, non potranno mai nuocerti in nulla. Se giudichi, fallo con giustizia. Che Allà ama i giusti. Come mai potranno sceglierti come giudice quando hanno la Torah con il giudizio di Allà e dopo di ciò avvolgere le spalle? Essi non sono credenti. Facemmo scendere la Torah, fonte di guide e di luce. Con essa giudicavano tra i giudei i profeti sottomessi ad Allà i rabbini e i dottori. Giudicavano in base a quella parte dei precetti di Allà che era stata loro affidata e della quale erano testimoni. Non temete gli uomini, ma temete me e non svendetevi il prezzo i segni miei. Coloro che non giudicano secondo quello che Allà ha fatto scendere, questi sono i miscredenti. Per loro prescrivemmo vita per vita, occhio per occhio, naso per naso, orecchio per orecchio, dente per dente e contrappasso per le ferite. Quanto a colui che vi rinuncia per amor di Allà varrà per lui come spiazione. Coloro che non giudicano secondo quello che Allà ha fatto scendere, questi sono gli ingiusti. Facemmo camminare sulle loro orme Gesù, figlio di Maria, per confermare la Torah che scese prima di lui. Gli demmo il Vangelo in cui è guida e luce a conferma della Torah che era scesa precedentemente. Monito e direzione per i timorati. Giudichi la gente del Vangelo in base a quello che Allà ha fatto scendere. Coloro che non giudicano secondo quello che Allà ha fatto scendere, questi sono gli iniqui. E su di te abbiamo fatto scendere il libro con la verità, a conferma della scrittura che era scesa in precedenza e lo abbiamo preservato da ogni alterazione. Giudica tra loro secondo quello che Allà ha fatto scendere, non conformarti alle loro passioni allontanandoti dalla verità che ti è giunta. Ad ognuno di voi abbiamo segnato una via e un percorso. Se Allà avesse voluto, avrebbe fatto di voi una sola comunità. Vi ha voluto però provare con quel che vi ha dato. Gareggiati in opere buone, tutti ritornerete ad Allà ed egli vi informerà a proposito delle cose sulle quali siete discordi. Giudica dunque tra di loro secondo quello che Allà ha rivelato e non indulgere alle loro passioni. Bada che non cerchino di allontanarti da una parte di quello che Allà ha fatto scendere su di te. Se poi ti volgono le spalle, sappi che Allà vuole colpirli per alcuni dei loro peccati. In vero, molti uomini sono perversi. È la giustizia dell'ignoranza che cercano? Chi è migliore di Allà nel giudizio per un popolo che crede con fermezza? O voi che credete, non sceglietevi per alleati giudei e nazareni, sono alleati gli uni degli altri e chi gli sceglie come alleati è uno di loro. In verità Allà non guida un popolo di ingiusti. Vedrai quelli che hanno una malattia nel cuore correre verso di loro dicendo temiamo un rovescio del destino. Ma se Allà darà la vittoria o un ordine da parte sua eccole rimpiangere i loro pensieri segreti. E i credenti diranno questi sono coloro che giuravano in nome di Allà con giuramento solenne che erano con voi? Le loro opere si sono vanificate e saranno coloro che si perdono. O voi che credete se qualcuno di voi rinnegherà la sua religione Allà susciterà una comunità che lui amerà e che lo amerà umile con i credenti e fiera con i miscredenti che lotterà per la causa di Allà e che non teme il biasimo di nessuno. Questa è la grazia di Allà ed egli la dà chi vuole. Allà immenso sapiente In verità i vostri alleati sono Allà e il suo messaggero e i credenti che assolvono all'orazione e pagano la decima prosternandosi con umiltà e colui che sceglie per alleati Allà e il messaggero e i credenti in verità è il partito di Allà che avrà la vittoria. O voi che credete non sceglietevi alleati tra quelli ai quali fu data la scrittura prima di voi quelli che volgono in gioco e derisione la vostra religione e neppure tra i miscredenti temete Allà se siete credenti quando fate la chiamata alla preghiera esse è per loro oggetto di burla e derisione e ciò perché è gente che non comprende di o gente della scrittura cosa ci rimproverate se non di credere in quello che è stato fatto scendere su di noi e in quello che è stato fatto scendere in precedenza la maggior parte di voi è veramente perversa di posso forse annunciarvi peggior ricompense da parte di Allà coloro che Allà ha maledetto che hanno destato la sua collera e che ha trasformato in scimmie porci coloro che sono i più lontani dalla retta via quando vengono presso di voi dicono siamo credenti ma entrano con miscredenza ed escono alla stessa maniera Allà conosce bene quello che nascondono vedrai molti di loro rivaleggiare nel peccato nella trasgressione e nell'avidità per il guadagno illecito quanto male c'è in quello che fanno perché i rabbini e i preti non impediscono loro di peccare con la parola e di nutrirsi di illeciti guadagni quanto male c'è in quello che operano i giudei dicono la mano di Allah si è incatenata siano incatenate le mani loro e siano maledetti per quello che hanno detto le sue mani sono invece ben aperte e gli dà chi vuole quello che è stato fatto scendere su di te da parte del tuo signore certamente accrescerà in molti di loro la ribellione e la miscredenza abbiamo destato tra loro odio e nemicizia fino al giorno della resurrezione ogni volta che accendono un fuoco di guerra Allah lo spegne gareggiano nel seminare disordine sulla terra ma Allah non ama i corruttori se la gente della scrittura avesse creduto e si fosse comportata con devozione avremmo cancellato le loro colpe e li avremmo introdotti nel giardino della delizia se avessero obbedito alla Torah e al Vangelo e a quello che scese su di loro da parte del loro signore avrebbero certamente goduto di quello che c'è sopra di loro e di quello che c'è ai loro piedi tra loro c'è una comunità che segue una via di moderazione ma ben malvagia quello che fanno molti di loro o messaggero comunica quello che è sceso su di te da parte del tuo signore che se non lo facessi non assolveresti la tua missione Allah ti proteggerà dalla gente in vero Allah non guida un popolo di miscredenti di o gente della scrittura non avrete basi sicure finché non obbedirete alla Torah e al Vangelo e in quello che è stato fatto scendere su di voi da parte del vostro signore stai certo che quello che è stato fatto scendere su di te da parte del tuo signore accrescerà in molti di loro la ribellione e la miscredenza non ti affliggere per i miscredenti in verità coloro che credono e i giudei i sabèi e i cristiani tutti quelli compiono il bene non avranno nulla da temere e non saranno afflitti accettammo il patto dei figli di israele e inviammo loro i messaggeri ogni volta che un messaggero recoloro qualcosa che i loro animi non desideravano ne tacciarono di menzoni alcuni e ne uccisero altri credettero che non avrebbero subito le conseguenze erano diventati ciechi e sordi poi Allah accolse il loro pentimento poi molti altri divennero ciechi e sordi Allah osserva quello che fanno sono certamente miscredenti quelli che dicono Allah è il messia figlio di Maria mentre il messia disse o figli di israele adorate Allah mio signore e vostro signore quanto a chi attribuisce consimili ad Allah Allah gli preclude paradiso il suo rifugio sarà il fuoco gli ingiusti non avranno chi li soccorra sono certamente miscredenti quelli che dicono in verità Allah è il terzo di tre mentre non c'è Dio all'infuori del Dio unico e se non cessano il loro dire un castigo doloroso giungerà ai miscredenti perché non si rivolgono pentiti ad Allah implorando il suo perdono Allah è perdonatore misericordioso il messia figlio di Maria non era che un messaggero altri messaggeri erano venuti prima di lui e sua madre era una veridica eppure entrambi mangiavano cibo guarda come rendiamo evidenti i nostri segni quindi guarda come se ne allontanano di adorerete all'infuori di Allah qualcuno che non ha né il potere di nuocervi né di giovarvi Allah tutto ascolta e conosce di o gente della scrittura non esagerate nella vostra religione non seguite le stesse passioni che seguirono coloro che si sono traviati e che hanno traviato molti altri che hanno perduto la retta via i miscredenti tra i figli di Israele che hanno negato sono stati maledetti dalla lingua di Davide e di Gesù figlio di Maria ciò in quanto disobbedivano e trasgredivano e non si vietavano l'un l'altro quello che era nocivo quant'era esecrabile quello che facevano vedrai che molti di loro si alleeranno con i miscredenti è così esecrabile quello che hanno preparato che Allah incollera con loro rimarranno in perpetuo nel castigo se credessero in Allah e nel profeta e in quello che è stato fatto scendere su di lui non li prenderebbero per alleati ma molti di loro sono perversi troverai che i più acerrimi nemici decredenti sono i giudei e i politeisti e troverai che i più prossimi all'amore per i credenti sono coloro che dicono in verità siamo nazareni perché tra loro ci sono uomini dediti allo studio e monaci che non hanno alcuna superbia quando sentono quello che è sceso sul messaggero vedrà i loro occhi versare lacrime per la verità che vi hanno riconosciuto dicono o nostro signore noi crediamo annoveraci tre testimoni come potremmo non credere in all'ah e in quella parte della verità che ci è giunta quando bramiamo che il nostro signore ci introduca in compagnia dei devoti all'ah li compenserà per quello che dicono con i giardini dove scorrono i ruscelli in cui rimarranno in perpetuo questa è la mercede di coloro che compiono il bene e quanto coloro che sono miscredenti e tacciano di menzogne i nostri segni questi sono i compagni della fornace o voi che credete non vietate le cose buone che all'ah vi ha reso lecite non eccedete in verità all'ah non ama coloro che cedono mangiate le cose buone e lecite che all'ah vi ha concesso e temete all'ah colui nel quale credete all'ah non vi punirà per un'avventatezza nei vostri giuramenti ma vi punirà per i giuramenti che avete ponderato l'espiazione consisterà nel nutrire dieci poveri con il cibo consueto con cui nutrite la vostra famiglia o nel vestirli o nel liberare uno schiavo e chi non ha i mezzi di farlo digiuni allora per tre giorni ecco l'espiazione per i giuramenti che avete disatteso tenete fede ai giuramenti così all'ah vi spiega i suoi segni affinché siate riconoscenti o voi che credete in verità il vino il gioco d'azzardo le pietre idolatriche le frecce divinatorie sono immonde opere di satana evitate evitatele affinché possiate prosperare in verità col vino il gioco d'azzardo satana vuole seminare nemicizie e odio tra di voi e allontanarvi dal ricordo di all'ah e dall'orazione ve ne asterrete obbedite ad all'ah e al messaggero e state attenti se poi gli volgerete le spalle sappiate che il nostro messaggero deve solo trasmettere in modo chiaro null'altro per coloro che credono e operano il bene non ci sarà male alcuno in quello che avranno mangiato purché abbiano temuto all'ah abbiano creduto e compiuto il bene temano all'ah credano e sempre temano all'ah e operino al meglio all'ah ama i buoni o voi che credete all'ah certamente vi metterà alla prova con qualche capo di selvaggina che caccerete con le mani e con le lance così all'ah riconoscerà chi lo teme nel profondo di sé chi poi trasgredirà avrà doloroso castigo o voi che credete non uccidete la selvaggina se siete in stato di consacrazione chi di voi la ucciderà deliberatamente si riscatti con qualche bestia del gregge dello stesso valore di quella che ha ucciso giudichino due uomini giusti tra voi e sarà un'offerta che invia la kaba oppure spii nutriendo i poveri o digiunando per scontare le conseguenze della sua azione all'ah ha perdonato il passato ma si vendicherà sui recidivi all'ah è potente è il padrone della vendetta vi è lecita la pesca e il cibo che ne ricaverete godetene con gli altri viaggiatori vi è invece rese illecita la caccia per tutto il tempo in cui siete in stato di consacrazione temete all'ah e a lui che sarete ricondotti all'ah ha fatto della kaba della santa casa un luogo di preghiera per gli uomini lo stesso vale per il mese sacro l'offerta di animali e gli ornamenti delle vittime sacrificali ciò finché sappiate che all'ah conosce veramente tutto quello che viene ai cieli e sulla terra in verità all'ah conosce ogni cosa sappiate che in verità all'ah è severo nel castigare e che è perdonatore misericordioso al messaggero incombe solo l'onere della trasmissione all'ah conosce quello che manifestate e quello che tenete nascosto di il cattivo e il buono non si equivalgono anche se ti stupisce l'abbondanza che c'è nel male temete dunque all'ah o dotati di intelletto affinché possiate prosperare o voi che credete non fate domande su cose che se vi fossero spiegate vi dispiacerebbero se farete domande in proposito vi saranno spiegate dopo che il corano sarà disceso per intero all'ah vi perdonerà poiché all'ah è perdonatore paziente un popolo che vi precedette fece domande in tal senso e poi rinnegò all'ah non ha consacrato né bahira né saiba né wasila né hami i miscredenti inventano menzogne contro all'ah e la maggior parte di loro non ragiona quando si dice loro venite a quello che all'ah ha fatto scendere al suo messaggero dicono ci basta quello che i nostri avi ci hanno tramandato anche se i loro avi non possedevano scienza alcuna e non erano sulla retta via o voi che credete preoccupatevi di voi stessi se siete ben diretti non potrà nulla contro di voi colui che si è allontanato poi tutti ritornerete ad all'ah ed egli vi informerà di quello che avrete fatto o voi che credete se state per morire e fate testamento prendete come testimoni due uomini integri dei vostri oppure se siete in viaggio e vi giunga preavviso della morte due uomini a voi estranei li tratterrete dopo l'orazione e se avete dubbi fateli giurare in nome di all'ah non rinnegheremo per nessuna somma neanche a favore di un parente e non nasconderemo la testimonianza di all'ah che in tal caso saremo peccatori se in seguito si scoprisse che hanno commesso un'infamità siano sostituiti con altri due scelti tra i parenti prossimi di quanti accampano diritti entrambi giureranno in nome di all'ah la nostra testimonianza è più sicura di quella di quei due noi non trasgrediremo in tal caso saremo tra gli ingiusti questo sarà il modo più sicuro perché gli uomini testimonino sul loro onore temendo che venga rifiutata una testimonianza dopo che avranno giurato temete all'ah e ascoltate all'ah non guida gli ingiusti il giorno in cui all'ah radunerà tutti i messaggeri dirà loro che cosa vi hanno risposto diranno noi non abbiamo nessuna scienza tu sei colui che conosce l'inconoscibile e quando all'ah dirà o gesù figlio di maria ricorda la mia grazia su di te e su tua madre e quando ti rafforzai con lo spirito di santità tanto che parlasti agli uomini dalla culla e in età matura e quando ti insegnai il libro e la saggezza e la Torah e il Vangelo quando forgiasti con la creta la figura di un uccello quindi vi soffiasti sopra e col mio permesso divenne un uccello guaristi col mio permesso il cieco nato e il lebroso e col mio permesso risuscitasti il morto e quando ti difesi dai figli di israele allorché giungesti con le prove quelli di loro che non credevano dissero questa evidente magia e quando rivelai agli apostoli credete in me nel mio messaggero risposero crediamo sii testimone che siamo musulmani quando gli apostoli dissero o gesù figlio di maria è possibile che il tuo signore faccia scendere su di noi dal cielo una tavola imbandita rispose temete all'ah se siete credenti dissero vogliamo mangiare da essa così i nostri cuori saranno rassicurati sapremo che tu hai detto la verità e ne saremo testimoni gesù gesù figlio di maria disse o all'ah nostro signore fa scendere su di noi dal cielo una tavola imbandita che sia una festa per noi per il primo di noi come per l'ultimo e un segno da parte tua provvedi a noi tu che sei il migliore dei sostentatori all'ah disse la farò scendere su di voi e chiunque di voi dopo di ciò sarà miscredente lo castigherò con un tormento che non infliggerò a nessun'altra creatura e quando all'ah dirà o gesù figlio di maria hai forse detto alla gente prendete me e mia madre come due divinità all'infuori di all'ah risponderà gloria a te come potrei dire ciò di cui non ho diritto se lo avessi detto tu certamente lo sapresti che tu conosci quello che c'è in me e io non conosco quello che c'è in te in verità sei il supremo conoscitore dell'inconoscibile ho detto loro solo quello che tu mi avevi ordinato di dire adorate all'ah mio signore e vostro signore cui testimone di loro finché rimasi presso di loro da quando mi è elevato a te tu sei rimasto a sorvegliarli tu sei testimone di tutte le cose se li punisci in verità sono servi tuoi se li perdoni in verità tu sei l'eccelso il saggio dice all'ah ecco il giorno in cui la verità sarà utile ai veridici avranno i giardini nei quali scorrono i ruscelli e vi rimarranno in perpetuo all'ah sarà soddisfatto di loro ed essi di lui questo è l'immesso successo appartiene ad all'ah la sovranità dei cieli e della terra e di ciò che racchiudono ed egli è l'onnipotente sura sesta la lode appartiene ad all'ah che ha creato i cieli e la terra e ha regolato le tenebre e la luce eppure i miscredenti attribuiscono consimili al loro signore è lui che vi ha creati dalla terra e ha stabilito il termine vostro pure un altro termine è fissato presso di lui eppure ancora dubitate egli è all'ah nei cieli e sulla terra conosce quello che nascondete quello che palesate e quello che vi meritate e non giunge loro un segno dei segni del signore che essi non rifiutino chiamano menzogna la verità che giunge loro presto ne sapranno di più su ciò di cui si burlavano hanno considerato quante generazioni abbiamo distrutte prima di loro che pure avevamo poste sulla terra ben più saldamente mandammo loro dal cielo pioggia in abbondanza e creammo fiumi che facemmo scorrere ai loro piedi poi li distruggemmo a causa dei loro peccati e suscitammo dopo ciascuna di loro un'altra generazione se anche avessimo fatto scendere su di te una scrittura su papiro che avessero potuto toccare con le loro mani quelli che negano avrebbero certamente detto non è che evidente magia e dicono perché non ha fatto scendere un angelo su di lui se avessimo fatto scendere un angelo la questione sarebbe stata chiusa non avrebbero avuto dilazione alcuna e se avessimo designato un angelo gli avremmo dato aspetto umano e lo avremmo vestito come essi si vestono anche i messaggeri che vennero prima di te furono oggetto di scherno quello di cui si burlavano oggi li avvolge di viaggiate sulla terra e vedrete cosa ne è stato di coloro che tacciavano di menzogna di a chi appartiene quello che c'è nei cieli sulla terra rispondi ad Allah egli si è imposto la misericordia vi riunirà nel giorno della risurrezione sul quale non ve dubbio alcuno quelli che non credono preparano la loro stessa rovina a lui appartiene quello che dimora nella notte e nel giorno egli è colui che tutto ascolta e conosce di dovrei forse scegliere per patrono qualcun altro oltre ad Allah il creatore dei cieli della terra lui che nutre e non ha bisogno di essere nutrito di mi è stato ordinato di essere il primo a sottomettermi non siate mai più associatori di se disobbedissi al mio signore temerei il castigo di un giorno terribile in quel giorno saranno risparmiati solo quelli di cui Allah avrà misericordia ecco la beatitudine evidente e se Allah ti tocca con un'afflizione solo lui potrà sollevartene se ti concede il meglio sappi che gli è onnipotente egli è colui che prevale sui suoi servi egli è il saggio il ben informato di quale testimonianza è più grande di Allah è testimone tra voi e me questo Corano mi è stato rivelato affinché per suo tramite avverta voi e quelli cui perverrà veramente affermate che ci sono altre divinità insieme con Allah di io lo nego di in verità egli è un dio unico io rinnego ciò che gli attribuite quelli che hanno ricevuto la scrittura riconoscono il messaggero come riconoscono i loro figli coloro che non credono preparano la loro rovina chi è più ingiusto di colui che inventa menzogne contro Allah o smentisce i segni suoi in verità gli ingiusti non prospereranno nel giorno in cui li raduneremo tutti diremo ai politeisti dove sono gli associati che supponevate e non avranno altra possibilità che dire per Allah nostro signore non eravamo associatori guarda come si smentiscono come le loro calunnie li abbandoneranno c'è qualcuno di loro che viene ad ascoltarti ma noi abbiamo sigillato i cuori loro e appesantito le loro orecchie sì che non possano comprendere anche se vedessero ogni genere di segni non crederebbero quando vengono a polemizzare con te coloro che non credono dicono non sono che favole degli antichi ostacolano gli altri e allo stesso tempo perdono loro stessi non operano che la loro stessa rovina pur non essendone coscienti se li potessi vedere quando saranno presentati al fuoco diranno magari fossimo ricondotti sulla terra non smentiremmo più i segni del nostro signore e saremo tra i credenti sì verrà reso palese quello che nascondevano se anche li rimandassimo sulla terra rifarebbero quello che era loro vietato in verità essi sono i bugiardi dicono dicono per noi non c'è altro che questa vita e non saremo resuscitati se li vedessi quando saranno condotti al loro signore e li dirà non è questa la verità diranno sì per il nostro signore dirà gustate il castigo per la vostra miscredenza quelli che negano l'incontro con Allah saranno certamente perduti quando improvvisamente verrà l'ora diranno disgraziati noi che l'abbiamo trascurata porteranno sulla schiena il loro fardello che orribile carico la vita presente non è che un gioco effimero l'altra vita è certamente migliore per quelli che temono Allah non capite dunque sappiamo bene che quello che ti dicono ti addolora ma non è certamente te che smentiscono gli ingiusti negano i segni di Allah già i messaggeri che ti hanno preceduto furono tacciati di menzogna sopportarono con pazienza accuse e persecuzioni in che non venne loro il nostro soccorso nessuno può cambiare le parole di Allah ti sarà certamente giunto una parte della storia degli inviati se la loro indifferenza sarà per te un peso così grave cercherai una galleria nella terra o una scala per il cielo per portare loro un segno ancora migliore di quello che hai portato se Allah volesse potrebbe metterli tutti sulla retta via non essere dunque fra gli ignoranti in verità rispondono soltanto coloro che ascoltano Allah risusciterà i morti e saranno condotti a lui e dicono perché non è stato fatto scendere su di lui un segno da parte del suo signore di in verità Allah ha il potere di far scendere un segno ma la maggior parte di loro non sa nulla non c'è essere che si muova sulla terra o uccello che voli con le sue ali che non appartenga ad una comunità non abbiamo dimenticato nulla nel libro poi tutti saranno ricondotti verso il loro signore quelli che smentiscono i nostri segni sono come sordi e muti immersi nelle tenebre Allah svia chi vuole e pone chi vuole sulla retta via d pensate che se vi giungesse il castigo di Allah o l'ora invochereste qualcun altro oltre ad Allah ditelo se siete sinceri senza dubbio è lui che invocherete se vorrà disperderà ciò che avete invocato e dimenticherete ciò che gli avevate associato già inviamo profeti alle comunità che ti hanno preceduto poi le colpimmo con avversità e afflizioni affinché divenissero umili perché non divennero umili quando giunse loro il nostro rigore i loro cuori invece si indurirono e satana abbellìa i loro occhi quello che facevano quando poi dimenticarono quello che era stato loro ricordato aprimmo loro le porte di ogni bene e mentre esultavano per quello che avevamo donato li afferrammo all'improvviso ed eccoli disperati così fu eliminata anche l'ultima parte del popolo degli oppressori la lode appartiene ad Allah signore dei mondi d pensate che se Allah vi privasse dell'udito e della vista e sigillasse i vostri cuori quale altro dio all'infuori di Allah ve li potrebbe rendere guarda come esplicitiamo per loro i nostri segni eppure se ne allontanano d pensate se vi cogliesse il castigo di Allah improvviso o manifesto chi farà perire se non il popolo degli ingiusti non mandammo gli inviati se non come nunzi e ammonitori quanto a chi crede e si emenda non avrà nulla da temere e non sarà afflitto il castigo toccherà coloro che smentiscono i nostri segni per il loro perverso agire di non vi dico che possiedo i tesori di Allah e neppure che conosco l'invisibile né vi dico di essere un angelo seguo solo quello che mi è stato rivelato di sono forse uguali il cieco e colui che vede non riflettete dunque avverti con il corano quelli che temono di essere radunati davanti ad Allah che non avranno all'infuori di lui nessun altro patrono o intercessore forse lo temeranno non scacciare quelli che al mattino alla sera invocano il loro signore bramano il suo volto non renderai conto di loro e non renderanno conto di te se li scacciassi saresti tra gli ingiusti li abbiamo messi alla prova così gli uni con gli altri affinché dicano sono questi coloro fra noi che Allah ha favorito Allah conosce meglio di ogni altro coloro che gli sono grati quando vengono a te quelli che credono nei nostri segni di pace su di voi il vostro signore si è imposto la misericordia quanto a chi di voi commette il male per ignoranza e poi si pente e si corregge in verità Allah è perdonatore misericordioso così ripresentiamo continuamente i segni affinché il sentiere dei malvagi sia evidente di mi è stato vietato di adorare quelli che invocate all'infuori di Allah di non seguirò le passioni vostre che allora mi perderei e non sarei più tra i ben guidati di mi baso su una prova chiara da parte del mio signore e voi la tacciate di menzogna non ho il mio potere quello che volete affrettare il giudizio appartiene solo ad Allah e gli espone la verità ed è il migliore dei giudici di se avessi potere su quello che volete affrettare sarebbe già stato definito il contrasto tra me e voi Allah conosce meglio di chiunque altro gli ingiusti egli possiede le chiavi dell'invisibile che solo lui conosce e conosce quello che c'è nella terra e nei mari non cade una foglia senza che egli non ne abbia conoscenza e non c'è seme nelle tenebre della terra o cosa alcuna verde o secca che non siano citati nel libro chiarissimo nella notte è lui che vi richiama e sa quello che avete fatto durante il giorno e quindi vi risveglia finché non giunga al termine stabilito ritornerete a lui e vi mostrerà quello che avete operato egli è colui che domina i suoi servi e manda incontro a loro i custodi e quando la morte si presenta a uno di voi i nostri angeli lo richiamano senza negligenza alcuna quindi sono ricondotti ad Allah il loro vero protettore non è a lui che appartiene al giudizio egli è il più rapido nel conto di chi chi vi salverebbe dalle tenebre della terra e del mare invocatelo umilmente in segreto se ci sollevi da ciò saremo certamente riconoscenti di Allah vi libererà da ciò e da tutte le angosce ciò nonostante li attribuite con simili di egli vi può mandare un castigo dall'alto o da sotto i vostri piedi o confondervi con le divisioni facendovi provare la violenza degli uni sugli altri guarda come ripresentiamo continuamente i segni nostri affinché comprendano il tuo popolo taccia di menzogna quello che invece è la verità di io non sono il vostro difensore per ogni messaggio verrà il suo tempo e presto saprete quando li vedi immersi in discussioni sui nostri segni allontanati finché non cambiano argomento e se satana fa sì che qualche volta dimentichi appena ti sovvieni non restare oltre in compagnia degli ingiusti non compete timorati chiedere loro conto ma solo ammonirli chi sa che non temano allah allontanati da quelli che considerano gioco e divertimento la loro religione e sono ingannati dalla vita terrena ammoniscili con il corano affinché non perdano le anime loro con quello che avranno fatto all'infuori di allah non avranno alcun protettore né intercessore qualunque sia riscatto che offriranno non sarà accettato ecco coloro che sono stati abbandonati alla perdizione per quello che avranno fatto saranno dissetati con acqua bollente e avranno un castigo doloroso per la loro miscredenza d invocheremo in luogo di allah qualcuno che non può né favorirci né nuocerci volgeremo le spalle dopo che allah ci ha guidato come colui che viene indotto a vagabondare sulla terra dai demoni mentre i suoi compagni lo richiamano sulla giusta pista gridandogli vieni con noi di la vera guida sì è la guida di allah ci è stato ordinato di sottometterci al signore dei mondi di assolvere all'orazione e temere allah sarete ricondotti a lui egli è colui che ha creato i cieli e la terra secondo verità nel giorno in cui dice sì è l'essere la sua parola è verità a lui solo parterrà la sovranità nel giorno in cui sarà soffiato nella tromba egli è il conoscitore del palese e dell'invisibile egli è il saggio il beninformato quando abramo disse a suo padre a zar prenderai gli idoli per divinità vedo che tu e il tuo popolo siete in palese errore così mostrammo ad abramo il regno dei cieli e della terra affinché fosse tra coloro che credono con fermezza quando la notte l'avvolse vide una stella e disse ecco il mio signore poi quando essa tramontò disse non amo quelli che tramontano quando osservò la luna che sorgeva disse ecco il mio signore quando poi tramontò disse se il mio signore non mi guida sarò certamente tra coloro che si perdono quando poi vide il sole che sorgeva disse ecco il mio signore ecco il più grande quando poi tramontò disse o popolo mio io rinnego ciò che associate ad allà in tutta sincerità rivolgo il mio volto verso colui che ha creato i cieli e la terra e non sono tra coloro che associano la sua gente argomentò contro di lui ma gli disse volete polemizzare con me in merito da allà quando è lui che mi ha guidato e non temo affatto i soci che gli attribuite ma temo solo ciò che vorrà il mio signore il mio signore abbraccia tutte le cose nella sua scienza non rifletterete dunque come potrei temere i soci che gli attribuite quando voi non temete di associare ad allà coloro riguardo ai quali non vi ha fatto scendere nessuna autorità quale dei due partiti è più nel giusto ditelo se lo sapete coloro che hanno creduto e non ammantano di iniquità la loro fede ecco a chi spetta l'immunità essi sono i ben guidati questo è l'argomento che fornimmo ad Abramo contro la sua gente noi eleviamo il livello di chi vogliamo il tuo signore è saggio sapiente gli demmo Isacco e Giacobbe e li guidammo entrambi e in precedenza guidammo Noè tra i suoi discendenti guidammo Davide Salomone Giobbe Giuseppe Mosè e Aronne così noi ricompensiamo quelli che fanno il bene e guidammo Zaccaria Giovanni Gesù ed Elia era tutta gente del bene e guidammo Ismaele Eliseo Giona e Lot concedemmo a tutti loro eccellenza sugli uomini così abbiamo scelto e guidato sulla retta via una parte dei loro antenati dei loro discendenti e dei loro fratelli ecco la guida con la quale Allah dirige chi vuole tra i suoi servi se avessero attribuito dall'Ade i consimili tutte le loro opere sarebbero state vane essi sono coloro a cui demmo la scrittura e la saggezza e la profezia se altri non credono in loro ebbene li abbiamo affidati a gente che non è miscredente essi sono coloro che Allah ha guidato attieniti alla loro guida di non vi chiedo compenso per questo non è che un monito rivolto al creato non prestano ad Allah la considerazione che gli spetta quando dicono Allah non ha fatto scendere nulla su di un uomo chiedi chi ha fatto scendere la scrittura su Mosè come luce e guida per le genti scrittura che avete trascritta in volumi diversi divulgandone una parte e nascondendone una parte assai notevole e tramite la quale siete stati istruiti su cose che né voi né vostri antenati conoscevate di Allah e lascia che si divertano a discutere questo è un libro benedetto che abbiamo fatto scendere a conferma di quello che era stato rivelato prima di esso affinché tu avverta la madre delle città e le genti intorno coloro che credono nell'ultimo giorno credono in esso e sono assidui all'orazione chi è peggior prevaricatore di colui che inventa menzogne contro Allah e dice ho ricevuto un'ispirazione quando invece non gli è stato ispirato nulla o colui che dice farò scendere qualcosa di simile a quello che Allah ha rivelato se vedessi gli ingiusti e gli spasimi della morte quando gli angeli stenderanno le mani su di loro e diranno rigettate le vostre anime oggi oggi sarete compensati con un castigo umiliante per aver mentito contro Allah e per esservi allontanati pieni di orgoglio dai suoi segni siete venuti a noi da soli come vi abbiamo creati la prima volta quello che vi abbiamo concesso lo avete gettato dietro le spalle non vediamo con voi i vostri intercessori gli alleati che pretendevate fossero vostri soci i legami tra voi sono stati tagliati e le vostre congetture vi hanno abbandonato Allah schiude il seme e il nocciolo dal morto trae il vivo e dal vivo il morto così è Allah come potete allontanarvi da lui tende il cielo all'alba della notte fa un riposo del sole e della luna una misura del tempo ecco il decreto dell'eccelso del sapiente egli è colui che ha fatto per voi le stelle affinché per loro tramite vi dirigiate nelle tenebre della terra e del mare noi mostriamo i segni a coloro che comprendono è lui che vi ha fatto nascere da un solo individuo e vi ha dato un ricettacolo e un deposito certamente abbiamo dispiegato i segni per coloro che capiscono egli è colui che fa scendere l'acqua dal cielo con la quale facciamo nascere germogli di ogni sorta da essi facciamo nascere vegetazione e da essa grani in spighe e palme dalle cui spate pendono grappoli di datteri e giardini piantati a vigna e olivi e melograni che si assomigliano ma sono diversi gli uni dagli altri osserva i frutti quando si formano e maturano ecco segni per gente che crede hanno associato ad Allah i demoni mentre è lui che li ha creati e gli hanno attribuito senza nulla sapere figli e figlie gloria a lui egli è superiore a quello che gli attribuiscono il creatore dei cieli e della terra come potrebbe avere un figlio se non ha compagna lui che ha creato ogni cosa e che tutto conosce ecco il vostro signore non c'è altro dio che lui il creatore di tutte le cose adoratelo dunque è lui che provvede ad ogni cosa gli sguardi non lo raggiungono ma egli scruta gli sguardi è il perspicace il ben informato di loro da parte del vostro signore vi sono giunti appelli alla lungimiranza chi dunque vede chiaro è a suo vantaggio chi resta cieco è a suo danno io non sono il vostro custode spieghiamo così i nostri segni affinché siano spinti a dire li hai studiati e per esporli a quelli che sanno segui quello che ti è stato rivelato dal tuo signore non c'è altro dio all'infuori di lui allontanati dai politeisti se Allah avesse voluto non gli avrebbero attribuito alcun consimile non ti abbiamo nominato loro custode e neppure sei loro difensore non insultate coloro che si invocano all'infuori di Allah che non insultino Allah per ostilità e ignoranza abbiamo reso belle agli occhi di ogni comunità le loro proprie azioni ritorneranno poi verso il loro signore ed egli li renderà idotti sul loro comportamento e hanno giurato con solenni giuramenti che se giungesse loro un segno certamente crederebbero di in verità i segni sono presso Allah ma chi vi dà la certezza che se questo avvenisse crederebbero sconvolgeremo i loro cuori e i loro occhi e li lasceremo progredire la cieca nella loro ribellione per non aver creduto la prima volta quando anche facessimo scendere gli angeli su di loro i morti parlassero e radunassimo tutte le cose di fronte a loro crederebbero solo se Allah vuole ma la maggior parte di loro ignora ad ogni profeta assegniamo un nemico diavoli tra gli uomini e demoni che si suggeriscono a vicenda discorsi fatui e ingannevoli se il tuo signore avesse voluto non l'avrebbero fatto lasciali soli con le loro invenzioni affinché i cuori di coloro che non credono all'altra vita ne siano suggestionati se ne compiacciano e commettano quello che devono commettere dovrei forse leggere altro giudice che Allah quando è lui che ha fatto scendere per voi questo libro spiegato esplicitamente e coloro ai quali abbiamo dato la scrittura ben sanno che è stato rivelato in tutta verità da parte del tuo signore non essere dunque tra coloro che dubitano la parola del tuo signore è veritiera e giusta ed esauriente nessuno può cambiare le sue parole egli ascolta e sa se obbedisce alla maggior parte di quelli che sono sulla terra si allontaneranno dal sentiero di Allah seguono solo congetture e non fanno che mentire in verità il tuo signore ben conosce chi si allontana dal suo sentiero e ben conosce i ben guidati mangiate di quello sul quale è stato menzionato il nome di Allah se credete nei suoi segni perché non mangiate quello su cui è stato pronunciato il nome di Allah quando egli vi ha ben spiegato quello che vi ha vietato a parte i casi di forza maggiore molti traviano gli altri a causa delle loro passioni e della loro ignoranza il tuo signore conosce i trasgressori meglio di chiunque altro lasciate la forma e la sostanza del peccato coloro che si caricano del peccato saranno compensati per quello che avranno guadagnato non mangiate ciò su cui non sia stato pronunciato il nome di Allah sarebbe certamente perversità i diavoli ispirano ai loro amici la polemica con voi se li seguiste sareste associatori forse colui che era morto e al quale abbiamo dato la vita fidandogli una luce per camminare tra gli uomini sarebbe uguale a chi è nelle tenebre senza poterne uscire così sembrano graziose e miscredenti le loro azioni così in ogni città facemmo capi i suoi peccatori più grandi affinché ordiscono in essa le loro trame ma tramano solo contro loro stessi e non ne sono coscienti e quando giunge loro un segno dicono non crederemo finché non ci giunga un segno simile a quello che è stato dato ai messaggeri di Allah ma Allah sa meglio di loro dove porre il suo messaggio l'umiliazione di fronte ad Allah e un castigo crudele colpiranno quelli che peccarono a causa delle loro trame Allah apre il cuore dell'Islam a coloro che vuole guidare colui che vuole sviare lo stringe e opprime il suo petto come a chi fa sforzo a salire verso il cielo così Allah impone l'infamità a coloro che non credono questa è la retta via del tuo signore abbiamo spiegato i segni per il popolo che si sforza nel ricordo avranno una dimora di pace presso il loro signore egli è il loro alleato per quello che hanno fatto e il giorno in cui li radunerà tutti dirà o consesso di demoni troppo avete abusato degli uomini e i loro amici tra gli uomini diranno o signor nostro ci siamo serviti gli uni degli altri e abbiamo raggiunto il termine che avevi stabilito per noi ed egli dirà il fuoco è la vostra dimora e vi resterete in perpetuo a meno che Allah voglia altrimenti in verità il tuo signore è saggio sapiente è così che abbiamo reso gli oppressori soggetti gli uni agli altri compenso per quello che hanno guadagnato o consesso di demoni e di uomini non vi sono forse giunti messaggeri scelti tra voi che vi hanno riferito i miei segni e vi hanno avvertito dell'incontro di questo giorno diranno lo testimoniamo contro noi stessi la vita terrena li ha ingannati ed hanno testimoniato contro loro stessi di essere miscredenti ciò in quanto non si addice al tuo signore l'ingiusta distruzione di città mentre i loro abitanti sono ancora incoscienti per ogni uomo ci sarà un livello adeguato al suo comportamento il tuo signore non è indifferente a quello che hanno fatto il tuo signore è colui che basta a se stesso è il detentore della misericordia se volesse vi distruggerebbe e vi sostituirebbe come lui vuole così come vi ha fatti discendere dalla posterità di un altro popolo in verità ciò che vi è stato promesso certamente si avvicina e voi non potrete far nulla per evitarlo e attribuiscono ad Allah una parte di quello che lui ha prodotto dai campi e dai greggi e dicono questo per Allah secondo le loro pretese e questo per i nostri soci ma quello che è per gli dèi non giunge ad Allah e invece quello che è per Allah giunge ai loro dèi quale sciagurato giudizio ed è così che i loro dèi hanno reso accettabile a molti politeisti l'assassinio dei loro figli per farli perdere e per confondere la loro religione se Allah volesse non lo farebbero lasciali dunque alle loro bestemmie e dicono ecco i greggi e le messi consacrate potranno cibarsene solo quelli che designeremo quali pretese e designano animali il cui dorso è tabù e animali sui quali non invocano il nome di Allah forgiano menzogne contro di lui presto Allah li compenserà delle loro menzogne e dicono quello che è contenuto nei ventri di queste bestie è per i nostri maschi ed è vietato alle nostre donne e se nasce morto lo dividono fra tutti presto Allah li compenserà dei loro distinguo egli è saggio sapiente sono certamente perduti quelli che per idiozia e ignoranza uccidono i loro figli e quelli che si vietano il cibo che Allah ha concesso loro mentendo contro Allah si sono sviati e non hanno più la guida è lui che ha creato giardini di vigne con pergolati e senza pergolati palme e piante di diversi frutti l'olivo e il melograno simili ma dissimili mangiate nei frutti e versatene quanto dovuto nel giorno stesso della raccolta senza eccessi che Allah non ama chi eccede e del bestiame da soma e da macello mangiate di quello che Allah vi ha concesso per nutrirvi e non seguite le orme di Satana egli è un vostro sicuro nemico 8 a coppie 2 di ovini e 2 di caprini di sono i due maschi che ha vietato o le due femmine o quello che c'è nel ventre delle due femmine informatemene con scienza certa se siete sinceri 2 per i camelidi e 2 per i bovini di sono i due maschi che ha vietato o le due femmine o quello che è contenuto nel ventre delle femmine eravate là quando Allah ve lo ha ordinato chi è peggior ingiusto di chi per ignoranza inventa menzogne a proposito di Allah per traviare gli uomini Allah non guida gli ingiusti di in quello che mi è stato rivelato non trovo altri interdetti a proposito del cibo se non l'animale morto il sangue fuso è la carne di porco che è immonda e ciò che perversamente è stato sacrificato ad altri che ad Allah quanto a chi vi fosse costretto senza intenzione o ribellione ebbene il tuo signore è perdonatore misericordioso ai giudei abbiamo vietato tutti gli animali ungolati vietammo loro il grasso dei bovini e degli ovini a parte quello del dorso delle viscere o quello frammisto ossa così li compensammo della loro ribellione in verità noi siamo veridici se poi ti tacciano di menzogna di il vostro signore possiede immensa misericordia ma la sua severità non potrà essere allontanata da un popolo empio presto gli associatori diranno se Allah avesse voluto non avremmo associato alcunché e neppure i nostri avi né avremmo dichiarato illecito alcunché allo stesso modo i loro antenati smentirono finché non provarono la nostra severità di potete produrre una qualche scienza non seguite altro che congetture e supposizioni di Allah possiede l'argomento decisivo se volesse vi guiderebbe tutti quanti di fate venire i vostri testimoni ad attestare che Allah ha proibito ciò se testimoniano non testimoniare con loro e non seguire le propensioni di coloro che smentiscono i nostri segni non credono all'altra vita e attribuiscono consimili al loro signore di venite vi reciterò quello che il vostro signore vi ha proibito e cioè non associatagli alcunché siate buoni con i genitori non uccidete i vostri bambini in caso di carestia il cibo lo provvederemo a voi e a loro non avvicinatevi alle cose turpi siano esse palesi o nascoste e a parte il buon diritto non uccidete nessuno di coloro che Allah ha reso sacri ecco quello che vi comanda affinché comprendiate non avvicinatevi se non per il meglio ai beni dell'orfano finché non abbia raggiunto la maggiore età e riempite la misura e date il peso con giustizia non imponiamo a nessuno oltre le sue possibilità quando parlate siate giusti anche se è coinvolto un parente obbedite al patto con Allah ecco cosa vi ordina forse ve ne ricorderete in verità questa è la mia retta via seguitela e non seguite i sentieri che vi allontanerebbero dalla sua via ecco cosa vi comanda affinché siate timorati e poi demmo la scrittura a Mosè corollario della nostra grazia spiegazione chiara di tutte le cose guida e misericordia affinché credessero nell'incontro con il loro Signore questo è un libro benedetto che noi abbiamo fatto scendere seguitelo allora e siate timorati di Allah sicché possiate essere oggetto di misericordia affinché non diciate è stata fatta scendere la scrittura solo su due popoli nostri predecessori e noi ne ignoravamo gli insegnamenti o diciate se la scrittura fosse stata fatta scendere su di noi saremmo stati meglio guidati di loro ecco che dal vostro Signore vi sono giunte prove guida e misericordia dopo di ciò chi sarà peggior ingiusto di quello che smentisce i segni di Allah e se ne allontana presto compenseremo quelli che si allontanano dei nostri segni con un duro castigo per essersi allontanati aspettano forse che vengano gli angeli o che venga il tuo Signore o che si manifestino i segni del tuo Signore il giorno in cui sarà giunto uno dei fede che prima non aveva fatto e essa non sarà utile a chi non avrà acquisito un merito di aspettate che anche noi aspettiamo tu non sei responsabile di coloro che hanno fatto scismi nella loro religione e hanno formato delle sette la loro sorte appartiene ad Allah li informerà di quello che hanno fatto chi verrà con un bene ne avrà dieci volte tanto e chi verrà con un male ne pagherà solo l'equivalente non verrà fatto loro alcun torto di il Signore mi ha guidato sulla retta via in una religione giusta la fede di Abramo che era un puro credente e non associatore di in verità la mia orazione e il mio rito la mia vita e la mia morte appartengono ad Allah Signore dei mondi non ha associati questo mi è stato comandato e sono il primo a sottomettermi di dovrei cercare un altro Signore all'infuori di Allah che è il Signore di tutte le cose ognuno pecca contro se stesso nessuno porterà il fardello di un altro poi ritornerete al vostro Signore ed Egli vi informerà sulle vostre discordie Egli è colui che vi ha costituiti eredi della terra e vi ha elevato di livello gli uni sugli altri per provarvi in quello che vi ha dato in verità il tuo Signore è rapido al castigo in verità è perdonatore misericordioso e vi vi vi